Un enorme incendio ha travolto un hotel casino a Poipet, nell'ovest della Cambogia, al confine con la Thailandia, nella notte di mercoledì. Il bilancio al momento è di 30 vittime e decine di feriti. Alcune persone circondate dalle fiamme hanno deciso di saltare dal tetto dell'edificio, come mostrano dei video postati sui social dai testimoni. 360 soccorritori, 11 camion dei pompieri e degli elicotteri sono stati inviati sul luogo. Secondo le autorità locali, la causa dell'incendio non è ancora nota. All'interno dell'edificio si trovavano centinaia di persone, 400 impiegati dell'hotel e numerosi turisti stranieri.